Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione mare si segnalano tra Empoli, Ovest e San Mignato un chilometro di coda per un incidente e rallentamenti per un veicolo fermo. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita la strassigna provenendo da Firenze. Spostandoci sulla 1 in direzione Bologna, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 269 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sempre in A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova in uscita provenendo da Genova. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!